Buonasera a tutti da Grangale in cucina ed ecco cosa vediamo sottofondo del nostro piatto ho fatto un bel cosciotto grigliato arrostito allora prendiamo 100 kg di cosciotti e ci ho spruzzato un po' di olio gli ho spruzzato un po' di burro sopra il latte poi ci ho spruzzato dentro nell'intingolo con l'origano, il sale e l'olio e voilà poi l'ho grigliato nella mia griglia di pentola per cosciotti e carni grigliate e ho fatto una bella crostecina bella dorata sopra, bella croccante e dentro è bello bianco vedete, è bello bianco e ci ho spruzzato un po' di limone in giro con l'olio, con il nostro oregano e salvia sempre in polvere, è molto profumato ci ho spennellato sopra un po' di olio col pennello per dare il lucido e che dire, con una bella lattughina verde verde e pomodorini che li ho preparati già nel nostro frigo a raffrescare ci vediamo un'altra ricettina tra pochissimo e in gran gara e in cucina bacioni a tutti